Salve a tutti, bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube tutto dedicato alla meravigliosa Italia. Sono Giulio Madejkos, il vostro Italian Coach. Oggi parleremo delle doppie consonanti nella lingua italiana parlata e come pronunciarle. Un piccolo test per voi. Sapete la differenza tra le coppie di parole che vedete sul vostro schermo? Per esempio, sapreste come pronunciare senza grossi problemi le parole per dire alla madre di vostra madre che siete preoccupati dell'effetto greenhouse? Niente paura, seguitemi in questo nuovo affascinante viaggio nel favoloso mondo dell'italiano parlato. Mi raccomando, restate fino alla fine perché vi darò un consiglio utilissimo per pronunciare le doppie consonanti sempre perfettamente. La pronuncia delle doppie consonanti in italiano è sempre stato un problema spinosissimo per tutti gli studenti della lingua italiana. Nella mia esperienza di insegnante ho notato che gli studenti anglofoni risentono maggiormente di questo problema. Il pronunciare vale le doppie consonanti ha un effetto devastante sul contenuto che si vuole trasmettere alla persona con cui si sta parlando. Ho già parlato di questo problema nel mio video sulla lettera H. Ho messo il link in descrizione. Sono sicuro che qualcuno di voi si domanderà, ma scusa Giulio, a che servono le doppie consonanti e che importanza ha se non le pronuncio correttamente? Per rispondere a questa domanda vi darò esempi di coppie di parole che hanno come sola differenza il numero di identiche e adiacenti consonanti e adiacenti consonanti al loro interno. Vicino alle parole ho messo la traduzione in inglese in modo che possiate rendervi conto dell'importanza della buona pronuncia delle doppie consonanti e consonanti in italiano. Nona, nonna, casa, cassa, sera, serra, papa, pappa, palla, palla, rosa, rossa, luca, lucca, ano, anno. Avete visto? Passando dalla parola con una consonante a quella con la stessa consonante raddoppiata, il significato cambia, è di brutto, così come deve cambiare la pronuncia della seconda parola della seconda parola della coppia. Veniamo ora al metodo per pronunciare le doppie consonanti in italiano. Prendiamo la coppia nona, nonna. Avete sentito come pronuncio la parola parola con le due n, nonna. Pronuncio la prima n e poi prolungo il suono di questa n un istante in più che per la stessa parola con una sola consonante. Ascoltate ancora. Parola con una n, nonna. Parola con due n, nonna. I'm going to do the second example in English because I really want you to succeed at this method. Let us now look at the second couple. Palla, one l, palla, double l. Have you heard that in pronouncing palla with two l's, I have prolonged ever so slightly the sound or the consonant L? It's just as having only one long sound associated with the consonant L in the word. Try yourself this method. Write in the comments below if this method worked for you. Se siete curiosi, questo fenomeno in fonetica è chiamato geminazione consonantica e non si limita alle doppie consonanti ma si estende ad intere frasi dove l'incontri vocale consonante tra parole adiacenti porta ad un naturale raddoppiamento della consonante. Bene, è tutto per questo video. Se non l'avete già fatto, pollicione su e cliccate subscribe. Mi raccomando, non dimenticate la campanella per la notifica di nuovi video. Come al solito ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto. Grazie. 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 Grazie.